Fionda di legno 2018, quest'anno tra l'altro si terrà insieme in contemporanea a Fior d'Albenga, due manifestazioni importanti per la città e un messaggio importante anche quest'anno. Sicuramente sì, questo fa capire Albenga cos'è, io come ho detto prima penso che sia fondamentale che tutti quanti noi rincominciamo a stupirci di quanto è bella Albenga, di quante cose riesce a offrire a Fior d'Albenga perché forse il fatto di avere un centro storico che riteniamo che sia così ma non abbiamo più la capacità di capire quanto è bello, accogliente, il fatto di avere manifestazioni come Fior d'Albenga che ogni anno trasformano la nostra città in un giardino e che portano moltissime persone, quest'anno avere nuovamente un premio dove coinvolgiamo personaggi molto importanti, una corsa che riusciremo a fare nel centro storico dove si pensa che ci saranno forse 2000 iscritti, sono tutte cose veramente per la città importanti ma se tutti quanti i cittadini di Albenga cominciano con orgoglio a capire Albenga cos'è forse riusciamo a avere anche degli obiettivi e porci degli obiettivi nostri che possono essere importanti per una ripresa che nella città ci deve essere.